Bene, ora andiamo a vedere i giallini, sempre nella internet, coinco, elenco ricerca, c'è un'altra spiegazione su quest'area, andiamo a vederne uno solo, andiamo a vedere il classico cliente nostro, migliore, palazzetti, cerchiamo. Vediamo, vediamo tre contatti e vediamo la colonna giallino, vediamo questa data, vuol dire che in questa data è stato scritto un giallino, andiamo a vedere cliccando su giallino e vediamo tutti i giallini che sono stati scritti. Il sistema è iniziato nel 2003 e quindi vediamo tutti i giallini, vediamo chi ha chiamato, la data, chi ha chiamato può salvare su se stesso, gli altri non possono salvare sui nomi degli altri. Vediamo la data, se c'è un'email si schiaccia email, ma è una consuetudine che ormai è quasi desueta, non lo fa più nessuno. L'importanza di scrivere questo giallino è questa qua, giallino di prova, ora salvo, questo è il mio nome. Nel momento in cui io vado nell'erenco ricerca e ricerco palazzetti, si vede che c'è il mio riepilogo con la data di oggi. La cosa positiva è che se uno cerca su tutti, e ora in questo momento facciamo la ricerca, ci mette un po' di tempo, sono 18.000 contatti, riordiniamo per giallino e si vedono i giallini espressi per data, in modo tale che uno può andare a vedere le date decrescenti. Altro aspetto molto interessante è nella sezione marketing, perché il giallino è molto marketing. Si va qua, giallini, a questo punto io posso dire, si può vedere i giallini che ha fatto Edmondo, basta come chiamante parte di testo, cerca, e si vede che Edmondo ha scritto questi giallini, in modo tale che uno può cercare il nome di se stesso, e il giallino si vede in tutta la sua completezza. In più ci sono vari campi di ricerca, in cui posso cercare il nome dell'azienda, tipo se io facessi palazzetti, vedi 22 giallini che sono scritti, tipo giallino di prova e tutti gli altri, e così via, con tutti i campi data, alla data, escludere la data, se c'è la marketing gallery presente o il nilsen presente, questo è lo stadio. Adesso cambierò la scritta, condizione, condizione, condizione del progetto di telemarketing, faccio così, tacchete, ok, condizione 1, questa condizione è la condizione del progetto marketing, che ora non andiamo ad analizzare. In ogni caso, il giallino è la memoria, questo è importante, niente di più.